Allora io sono Paolo Albiero, ho 27 anni appena compiuti. Omnitex è nata come un'opportunità per me. Mi ha contattato questa società e non sapevo neanche chi fossero sinceramente. Sono stato come dire piacevolmente sorpreso da quello che poi ho trovato. Quello che volevo fare era buttarmi più sul project management. Prodare in Omnitex mi ha permesso di realizzare questo, cioè non di fare l'architetto certo, ma di vivere una certa esperienza a contatto con le persone, perché alla fine il 60% del mio tempo passo in cantiere a contatto con le persone, parlando, sentendo, imparando sempre di più ogni giorno. Il mio motto è Tomorrow's Victory, Today's Practice. Veramente il lavoro giorno per giorno porta a qualcosa di incredibile il giorno successivo e mi accorgo che ogni giorno sto veramente imparando sempre di più. Posso definirmi uno sbarbato con la barba e con difficoltà a essere credibili con il cliente c'è sempre. Calma, secondo me ci serve solamente calma e fiducia in quello che sto imparando ogni giorno, in quello che anche i miei colleghi mi consigliano sempre. Non esiste un progetto, non esiste niente in cui esisto solamente io e il cliente, mai. Ci sono io e c'è un team. Ed è forse quello che a me sta piacendo di più in questa esperienza lavorativa, la metodo. Io subito, la prima settimana sono stato mandato con la spada in mano a fare una riunione di frutte. Questo torniamo sempre al Tomorrow's Victory, Today's Practice. Io subito, la prima settimana a fare una riunione di frutte. Grazie a tutti.